Buonissima, adesso con il tuo cuore è il Presidente dell'Associazione Università 3 Sennonita, il nostro professor Ragoni, Alberto Reck. Grazie, io ringrazio Flora perché è stato in qualche modo in cancio, lei è il socio che mi interessa di noi, grazie a voi, conosciuto personalmente la tua situazione bellissima, veramente si sta bene con voi, perché siete come un esperimento di essenza. Molto modestamente il quinto eseguente è un'associazione, quindi ha un nome che è appesionato, l'Università 3 Sennonita, in realtà è un'associazione che si chiama Università 3 Sennonita, perché rivolta a tutti i fattivi, non è un'associazione rivolta solamente alla terza, stetà, cioè all'età che mi riguarda, ma è rivolta anche ai bambini, ai bambini e ai bambini e ai bambini e ai bambini e ai bambini. Io spero che si possa aprire una finestra per l'ambito di esamogliere e ai bambini, a questo posto, rivolta a tutti i fattivi, perché ci fa stare bene. Mi voglio ringraziare per l'attenzione che avevano i nostri guardi, cioè per l'opportunità che spero sia conosciuto, però anche da amici che vengono ammettandoci. Grazie. 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 Grazie.